Il meeting di oggi nell'ambito degli eventi di Ravenna sull'ambiente è un meeting che interviene sul tema dell'intera filiera dei rifiuti, quindi dai temi della gestione, dai temi che riguardano il rapporto con le utenze e i temi che riguardano i sistemi informativi e la gestione dei dati dal punto di vista della privacy e della legislazione. È realizzato da Operate, Operate è un'associazione nazionale di professionisti, studi e aziende. Il tema fondamentale è quello di affrontare nella giornata di oggi l'introduzione della tarifa rifiuti e quindi di capire quali sono i problemi e gli elementi per poter portare avanti la gestione da una parte del servizio finalizzato alla misurazione dei rifiuti e dall'altra introdurre una tariffa che ha all'interno della tariffa una tariffazione sulla base della quantificazione dei rifiuti.